Da parte nostra a Renato Pozzetto e alle sue indimenticabili canzoni. E siamo ritornati adesso in gara per la sezione novità e vi presento Rosè Crisci. Un po' di calore, applausi più calorosi. Applausi, sono giovani, vanno incoraggiati. Rosè, ma ti sei truccata adesso. Perché che è successo? No, prima mi ha detto non venimi troppo vicino perché ancora mi sono truccata. Allora, Rosè, sei emozionata? Un pochino. Un pochino? Ma il trucco ti è venuto molto bene, per cui la mano era ferma. La sua, la mia. Comunque lei, tu non devi essere emozionata perché lei ha già cantato tante volte in tour con altri gruppi, non è vero? E allora, poca emozione, no? Vabbè, ma l'emozione di Sanremo è sempre un'emozione... Siamo a Sanremo. Va bene, va bene. Allora, ci presenta una canzone di Enzo Gragnaniello, detto bene? Che si chiama Favolando. Dirige l'orchestra e il maestro Paolo Raffone, Rosè Crisci. Grazie. Buon calore. Grazie. 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 Gli angeli non hanno sogni, fornano e non chiedono di più. Gli angeli non hanno sogni, fornano e non chiedono di più. Sento di più, tocca di più, fornano e non. Gli angeli non hanno sogni, fornano e non chiedono di più. Grazie!